Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Chi è Samantha? Allora, Samantha è una mamma, è una moglie, è un'operatrice sociosanitaria che ha tante passioni, tra cui la scrittura. Tutto è nato per caso, ho iniziato a scrivere un giorno questa storia e è stata notata fin quando non è stata fatta la proposta di renderla una serie tv. E quindi è stato per me un fulmine a ciel sereno, è stata una bella notizia, quasi incredula. Lì per lì sono rimasta quando mi è stato proposto, però poi piano piano ho fatto l'idea e tutto si è concretizzato pubblicandolo nero su bianco. Parliamo di questo libro intanto, poi successiva la serie tv. Sì, allora niente, il libro non è nient'altro che una storia, tengo a sottolineare, non autobiografica perché in tantissime persone mi hanno scritto in privato se questa storia fosse la mia, facesse parte della mia biografia e assolutamente no. È un misto tra realtà lavorativa e fantasia, chiaramente, dove si ritroverà le pagine, diciamo, molta realtà a livello lavorativo, sia di struttura privata, in quale RSA, sia della corsia ospedaliera, che mi trova presente tutti i giorni, diciamo. Ecco, poi la storia di Giulia è una storia abbastanza nuda, cruda, a volte romantica, a volte una grande storia di vita, a volte altamente erotica. Diciamo un mix che ci accomuna un po' tutte nella quotidianità. Il personaggio che hai citato, chi è questo personaggio? Raccontaci un po' il personaggio, non tanto il libro, ma il personaggio che poi vai a rappresentare. Sì, in effetti Giulia è un personaggio principale, molto problematico. viene da una vita tranquilla, da un matrimonio sereno, finché un giorno tutta la sua serenità, la sua felicità, viene scardinata da un lutto prematuro che è quello del suo neonato. Una morte bianca che le porterà via il marito, che senza dire nulla se ne andrà, lei rimarrà sola con il dolore di questo figlio perso, del marito scomparso. Quindi si chiuderà in una bolla dove soltanto il lavoro, diciamo, la terrà in vita. E grazie a un'amicizia su cui lei potrà contare sempre, che non ha mai fatto pressioni, nulla di forzato, riuscirà piano piano a ridarle quella continuità, quella voglia di vivere che credo dopo un evento traumatico del genere nessuna donna poi possa sopportare. Questa, diciamo, sua chiusura in una bolla verrà fatta esplodere da un giovane incontro, un giovane incontro che sarà per lei motivo di felicità e dannazione allo stesso momento, però un incontro che la farà rivivere, farà rivivere tutti i sentimenti, anche quelli anche mai conosciuti, fino ad arrivare a un punto di svolta, che vedremo se poi sarà o non sarà lui a far parte di questa svolta. Però per lei determinerà una rinascita molto, molto importante. Come si dice, se sono rosse fioriranno. Se no l'annaffierà qualcun altro. Adesso non posso spoilerarvi tutto, però sarà così. Diciamo che Giulia vivrà molte esperienze, molte esperienze lavorative che la cambieranno, che l'arricchiranno tantissimo, perché come tutti noi sappiamo, la prima esperienza per noi operatori sociosanitari è quasi scontata, che si forma dentro le case di riposo, RP o RSA. Lei lì avrà un confronto molto importante con gli utenti della struttura, avrà dei legami molto forti e importanti, che nel momento in cui deve approfondire la sua carriera, lascerà indietro, ma che continuerà comunque a coltivare e a portare con sé durante tutta la vita il percorso lavorativo. Mentre invece in ospedale viene rappresentato un po' tutto il percorso che dobbiamo vivere, un po' noi osse, infermieri, tutti quanti, perché se si vuole andare a lavorare in un ospedale, si sa che bisogna sostenere delle prove, dei concorsi, periodi di stress, di studio e non sempre poi vanno a buon fine. Anche lì si vedrà insomma il suo impegno, il suo duro lavoro e un approccio completamente diverso con quelli che saranno le problematiche e le tipologie diciamo di paziente con cui lei verrà contatto. Quindi non sarà solo il paziente, la malattia, ma anche poi tutto l'entourage familiare, il lavoro d'equip dove lei non era abituata, perché comunque in RSA si sa la maggior parte sono operatori sociosanitari, un minima parte l'infermiere e sporadicamente il medico, mentre invece nella realtà del reparto di pneumologia dove lei andrà a lavorare avrà un impatto positivo perché vedrà molta collaborazione da parte di medici e infermieri e vivrà veramente il lavoro d'equip. Sarà pronta in parte a vivere le esperienze legate alla malattia, come del resto lo siamo tutti, la buona volontà ce la mettiamo, però io spesso e volentieri ci torno a casa col Magones, non so voi, ma non riesco ad essere proprio del tutto distaccata, ci riesco proprio. Quando ti hanno detto l'idea facciamoci qualcosa in video, perché il libro ok, ma poi ti hanno detto ok, ma forse qualcosa in video non ci starebbe male su questa storia. che hai pensato e soprattutto come hai reagito? Non è possibile, non è possibile che saranno sbagliati, ma siete sicuri? Dice noi proviamo a proporla, ci piace l'idea, è nuova, si parla comunque di una figura, ora si è vero a livello medico, ma non si parla né di un infermiere né di un medico, proprio è nuova come concezione e quindi vogliamo provare a portarla sul grande schermo. Ho dato tutta la mia disponibilità, ancora oggi ci vorrà tempo, perché si sa che tra il Covid eccetera eccetera tutto è rimasto indietro, però attendiamo insomma, ecco, fiduciosi il giorno in cui potremo vederla in tv. Allora, andando, facendoti gli auguri per questa nuova avventura, per la vecchia, perché comunque vada quella vecchia, continua, ti facciamo gli auguri e ti facciamo gli auguri per la prossima, per questa avventura che poi partirà anche, per il libro che abbiamo iniziato a leggere, è bello, complimenti. E a questo punto ci salutiamo, ci fai saluti, e ci diamo appuntamento però quando si inizierà a lavorare proprio sul video. Va bene, intanto io ho iniziato con il secondo volume della collana Ostromance, che sarà pronto per i primi di gennaio 2022, e vediamo una nuova protagonista in una nuova realtà lavorativa, che è la sala operatoria. In collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.